salve salve come si chiama lei? Tommaso lei? io Gianluca si nome d'arte è Gippus però vabbè e come sta? bene dai lei? io bene ma più o meno una via di mezza è tutto a posto anch'io si si io sono un mago e vorrei presentargli un mio trucco di magia con questo mazzo però le mani non è che sono sporche no non credo forse è meglio usare quello del mazzo plastificato non lo so faccia lei è lei ma perché non se ne intende? no non so niente però questo forse ne rende di più l'idea ma non lo so è lei io non ci capisco niente dai pesca una carta catafratta dai fatevi di neve fatevi di neve bianca neve è scemo è scemo dai pesca una carta veloce però un attimo una carta ti ho chiesto di pescare non ti ho chiesto di cedere dal cielo una carta c'è una carta prendila ricordala ok dimmi stop quando vuoi stop anzi vabbè dai dimmela adesso stop e mettila pure qui lascia stare le carte cadute e secondo me visto che sono un mago la tua carta era questa era questa no ho sbagliato qualcosa pesca una carta si dice pesca scusa pesca pesca c'è una carta pesca ci senti bene oh una carta c'è pure una carta quella che vuoi guardala ricordala ma perché proprio una carta io sono non sono un mago siamo sicuri cosa sto facendo ma vaffa Fra tutte le carte girate a faccia in basso la tua carta è questa Prendila E' quella? Veramente? Sì Sì